L'incontro a Washington tra il presidente Obama e il premier canadese Harper, venerdì, è stata occasione per fare il punto durante la conferenza stampa sul quadro dello scacchiere geopolitico che più sta a cuore ora alla Casa Bianca, l'Egitto, dopo la giornata campale di venerdì. La posta in gioco in Egitto non sarà risolta con la violenza. Siamo incoraggiati dall'atteggiamento moderato mostrato oggi. Speriamo che prosegua, ha detto Obama a proposito della manifestazione di piazza Tahrir. In secondo luogo, il futuro dell'Egitto sarà determinato dal suo popolo. È chiaro che c'è bisogno di un processo di transizione che cominci ora. La Casa Bianca ribadisce dunque i suoi auspici, la dipartita del presidente Mubarak, in favore di un governo transitorio che prepari nuove e libere elezioni.